Un progetto per la tutela della biodiversità che sfrutta lettori di comunicazione cellulare per monitorare lo stato di salute dell'ambiente. L'iniziativa è stata presentata a Pescara nella sede della Regione Abruzzo dal Tower Operator Inuit e dall'Associazione Ambientalista Lega Ambiente. Nel corso dell'incontro sono state spiegate le modalità di realizzazione del progetto che prevede l'utilizzo delle infrastrutture digitali e condivise di Inuit in una logica di Tower as a Service. Attraverso specifici strumenti per la raccolta dati verranno monitorati alcuni parametri ambientali relativi alla qualità dell'aria in due parchi nazionali abruzzesi e due riserve regionali. Nello specifico interessati dal progetto saranno il Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Maiella, la riserva naturale Zompolo Schioppo e la riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio. La tecnologia è un fattore di rimente per la conoscenza, la tecnologia, il digital è fondamentale per avere informazioni costanti sullo stato dell'ambiente e noi lo mettiamo a disposizione per capire meglio come l'impatto del clima condiziona o favorisce la biodiversità in Abruzzo. Quindi è un'esperienza pilota, lo facciamo senza interferire con l'ambiente, nel senso che vengono utilizzate delle torri già esistenti in alcuni punti importanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Nazionale della Maiella, Pettorano sul Gizio e Morino e quindi come dire è una infrastruttura a servizio della biodiversità. Saranno comprese oltre i sei paesi pilota anche due parchi nazionali, due riserve, ecco perché probabilmente l'Abruzzo è stata anche scelta come partner di questa cosa importante. C'è la Invit, il Lega Ambiente e anche l'Arta che leggerà questi dati, questi dati che saranno, ci sarà questo monitoraggio costante per un anno durante tutte le 24 ore, di modo che qualsiasi decisione può essere mirata dopo avere delle informazioni vere. Sfruttando la grande capillarità, la grande presenza anche in luoghi molto particolari come i parchi nazionali o come le aree protette, delle nostre torri abbiamo pensato di mettere a disposizione le nostre infrastrutture per monitorare parametri ambientali, per capire meglio quali fossero gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla biodiversità di questi luoghi meravigliosi e straordinari e lo abbiamo fatto con ovviamente Lega Ambiente che è un po' il motore di tutte le iniziative, tutti i progetti di natura ambientale, specie poi in questi luoghi.